benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo scusate il ritardo ma parte dovuto rispondere a diecimila domande contemporaneamente che mi scrivete in privato poi dovuto trovare oggi un inquadratura particolare perché la luce del diciamo luce naturale non funziona quindi dobbiamo andare in luce artificiale e questo rende un po lucido il manifesto ma almeno qualcosa si vede dopo lo studio delle inquadrature va bene grazie alle donne che arrivano sempre per prime emanuela pongiluppi alessandra mondelli giovanna arminio e francesca centofanti grazie davvero a tutti voi ecco massimo cherubini insieme a meri rossi oggi puntata piuttosto rapida di stampa evangelo quindi se posso dirvi farvi una richiesta subito è di attivare immediatamente il mi piace alla diretta per farla tutelare dall'attacco dei nostri haters che come sapete sono sempre di più e arrivano ormai a mettere striscioni con minacce di morte a due metri dai luoghi dove facciamo i nostri comizi saluto fabio ceseri saluto danilo bassan angelica bosio alessandro bagagli andrea camenaghi fiera giacometti daniela tascini allora siamo davvero tanti già ora ma ripeto siccome la puntata sarà un po breve perché oggi è una giornata abbastanza impressionante ma non riesco a trovarne una tranquilla vi chiederò di appunto concentrare l'attenzione in poco più di 30 minuti perché poi devo partire per napoli oggi è il giorno della diciamo così promozione sul campo andiamo a parlare alla pontificia università facoltà teologica dell'italia meridionale sezione tommaso d'aquino metto paura solo a dirle queste cose dovrò portare una mela e metterla sul tavolo e dire questa è una mela chi non è d'accordo se ne vada sarebbe niente male diciamo e insomma comunque devo partire per andare a fare questa relazione a napoli anche piuttosto impegnativa e oggi incontrerò anche a napoli tutti gli amici del popolo della famiglia che sono ovviamente invitati alla all'aula magna della pontificia facoltà teologica dell'italia meridionale quindi è la nostra iniziativa anche di campagna elettorale per certi versi che è l'occasione per incontrare i nostri amici di napoli per incontrare anche le televisioni viene campagna felix a registrare alcuni messaggi utili per la campagna e dunque come vedete il lavoro si fa in ogni regione cercando di dare una mano abbiamo attraversate quattro nelle ultime 48 ore lazio perché c'è il mio collegio ed è mabbonino da battere quindi un po devo occuparmi anche di questo sono stati in emilia romagna grazie imola ed è il luogo dello striscione dei della condanna a morte diciamo così nelle marche grazie a giovanni mazzotta a tutti gli amici marchigiani eccolo giovanni mazzotta chiedeva informazioni in chat perché mi chiedete tutte informazioni direttamente io non riesco alla fine a arrivare puntuale a stampe vangelo ho letto anche l'ultima domanda di giovanni mazzotta che chiedeva cosa come ci comportiamo rispetto alle elezioni comunali le elezioni comunali saranno a maggio o a giugno quindi chi vuole legarsi al popolo della famiglia ovviamente dia sostegno il 4 marzo al popolo della famiglia lo faccia visivamente con grande evidenza e noi sosterremo evidentemente chi ci ha sostenuto anche alle comunali di maggio o giugno soprattutto facendo liste del popolo della famiglia perché lo dico a tutti il 4 marzo non finisce ciò che abbiamo fatto qualsiasi sia il risultato dopo il 4 marzo c'è il 5 marzo cioè convinceremo a spendere su tutte le elezioni amministrative si vota le regionali in molise a giugno ad aprile si vota alle regionali in friuli venezia giulia si fanno migliaia di elezioni comunali e ovviamente il consenso che avremo ricevuto a queste politiche lo spenderemo anche alle amministrative di primavera sarà la prima tappa di verifica del percorso che continua quello iniziato due anni fa continuerà per anni e anni il popolo della famiglia ha nel 4 marzo un momento di test importante a livello nazionale quindi avremo il dato della nostra forza numerica io lo continuo a dire se noi dovessimo avere un risultato come giuliano ferrara io sarei il primo a prendere tranne le conseguenze se invece come credo dovessero essere contate in centinaia di migliaia le persone che avranno dato fiducia al popolo la famiglia evidentemente questo movimento con le sue centinaia di migliaia di persone farà il lavoro giusto di rappresentanza politica a tutti i livelli in termini immediatamente in termini amministrativi andremo alle amministrative con il nostro simbolo e sostenendo i candidati che alle politiche del 4 marzo ci avranno dato una mano se poi avremo raggiunto il livello di un milione di voti addirittura avremo decine di parlamentari con cui fare azione determinante alla camera e al senato per fermare tutto il male che potrebbe arrivare dalle leggi della prossima legislatura poi come dice la buon giluppo ci sono le elezioni europee non nel 2020 nel 2019 cioè l'anno successivo si vota anche per le elezioni europee quindi come capite noi stiamo costruendo un percorso chi adesso si avvicina al popolo la famiglia non lo fa perché l'impegno dura i 19 giorni dei silvi di campagna elettorale lo fa perché si mette in cammino con noi nella difesa nel presidio dei principi non negoziabili questo è il lavoro che facciamo lo facciamo fino al 4 marzo e dal 5 marzo in poi consolidando dunque la presenza di popolo se invece ci sarà una bocciatura di questa proposta ipotesi che io non vedo all'orizzonte come dice sabrina bosu siamo una marea siamo tantissimi ovunque dovesse esserci però una bocciatura nelle urne la politica è questo la democrazia è sovrana dovesse esserci una bocciatura ne prenderemo atto ripeto la soglia del nostro consenso è contare i voti in centinaia di migliaia è una bella ambizione per delle persone venute dal nulla che finora ne hanno raccolto qualche decido di migliaia nelle amministrative se dovessimo contarci in centinaia di migliaia ovviamente avremmo costituito una presenza politica di un popolo che spenderemo ovunque come dice federica luppi non ci scordiamo l'importantissimo appuntamento elettorale per eleggere il sindaco di teramo e ovviamente è importantissimo per federica lupi il sindaco di teramo come sono importantissime le elezioni per esempio del sindaco di brescia dove anche io personalmente mi impegnerò visto che peraltro il collegio dove sono candidato senatore bergamo brescia daremo ovviamente una mano a tutti coloro che ci daranno una mano nel molise dove abbiamo raccolto le firme e le raccoglieremo per fare le elezioni regionali il fiuli venezia giulia evidentemente con il lavoro che fanno l'incetto e tanti altri amici per le elezioni regionali del fiuli venezia giulia insomma 4 marzo è tappa di un percorso lungo rosa dice lasciatelo stare sui capelli e barba va bene così basta critica al look non è importante a parte non è importante è bellissimo questo look scarmigliato alla rob stewart diciamo è un modo per dire ragazzi che voi pensate sempre che il corpo è un pezzo del messaggio quindi quando a sky ti insultano perché pesi tu con questo hai anche evidenziato e dimostrato come io a sky a parlare di razzismo dei fatti di macerata attenzione sei lì e con il tuo corpo testimoni che il razzismo la discriminazione questo istinto a voler eliminare il diverso in realtà alberga nell'animo di purtroppo di molti che si atteggiano a santarellini e io l'ho detto lì in in diretta perché anche il corpo può essere capace di testimoniare di provocare ci certo potrei tagliarmi i capelli meglio avere la barba molto più curata avere una giacca una gravatta somigliare che vi posso dire al ministro calenda no tutto bello preciso espressione dei poteri forti potrei essere un ignazio la russa con la barbetta molto virile fascista potrei essere un un ministro poletti avete presente il ministro del pd quello del lavoro no mi somiglia quasi pure insomma per cui bello ciotto ma sempre la scelta essere un quisco e de popolo uno criticabile questa è la scelta anche dove tu possa dire ha mai visto ciccione ha mai visto è peccatore ha mai visto ai capelli disordine ha mai visto ma la barba non l'ha curata e questo che poi purtroppo arriva anche a livelli di parossismo alle minacce di morte no tu muori c'è scritto a due metri dal posto dove facevamo il comizio l'altra sera a imola al palazzo marchi che tratto era strapieno di persone quindi quell'insulto era rivolto a tutti loro e e poi purtroppo il parossismo è diventato anche fuoco amico c'è una persona in particolare che sta no da giorni tirando fuori bile su bile il corpo è provocazione la presenza è provocazione essere se stessi è provocazione secondo alcuni testimoniare la verità addirittura è provocazione dobbiamo saperlo ci ci proponiamo per quel che siamo non per quel che non siamo questa è la questione fondamentale che vorrei trasparisse anche da una scelta estetica diciamo così che appunto la scelta estetica di non imbellettarmi mai what you see is what you get dicono anche gli informatici per raccontare quando una cosa è semplice e alla portata di tutti what you see is what you get cosa quello che vedi è quello che è e questo è importante niente imbiancatura sul sepolcro tanto è sepolcro se è sepolcro quindi questo lavoro lasciatelo fare nella maniera in cui sono capace di farlo luca cipriani dice materiale da stampare stampate questi ok questi li chiedete a giovanni marco tuglio il file c'era lui l'email è yokanan ghioccio a gmail.com l'ho sempre rimproverato a giovanni è complicatissima sti mail yokanan si scrive con la y di yogurt oca con la k nan con doppia a yokanan ghioccio a gmail.com vi può dare i file di questi questi sono la nostra killer application lo ricordo a tutti da mettere in tasca le persone per le prossime elezioni però prima noi bastiamo sempre dalla buona novella del giorno e allora per favore adesso un mi piace alla diretta un mi piace tutti ora a fare mi piace per favore alla diretta tutti a fare il condividi sul proprio profilo della diretta di oggi per favore in maniera che tutti possano seguire ora la pagina della buona notizia del giorno cioè la pagina del vangelo invitate gli amici a seguire invitate anche direttamente se benedette chat whatsapp almeno usatele per qualcosa di utile mettete il link alla diretta di questo momento ok fate il mi piace alla diretta e invitate tramite messenger tramite whatsapp i vostri amici a seguire la lettura del vangelo che tra l'altro c'è un vangelo meraviglioso per la sua forza durezza davvero per certi versi impressionante come sempre il vangelo di marco ti regala questa lo vorrei definire questa pagina una sorta di presente i tagli di fontana sulla tela quegli squarci che lui questo grandissimo artista ha valutato in milioni di euro definisce attesa o infinito bene lo squarcio che veramente ci fa vedere l'infinito è veramente un taglio di lama su una tela questo questa pagina di vangelo questa pagina di vangelo vale 100 quadri di fontana per quanto è preziosa saluto a un francesco colamonaco sacerdote che tratto ha firmato il nostro appello per il pdf 200 firme di sacerdoti religiosi e religiose ricordatelo tra poco ne parleremo sentiamolo insieme leggiamo insieme questa pagina di vangelo è il vangelo di marco siamo all'ottavo capitolo sono appena tre versetti 11 12 e 13 in quel tempo vennero i farisei e cominciarono a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova ma egli traendo un profondo sospiro disse perché questa generazione chiede un segno in verità vi dico non sarà dato alcun segno a questa generazione e lasciateli risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda che pagina eh non ci sarà alcun segno per la vostra generazione non ci sarà alcun segno i farisei lo provocano cercano di portarlo sempre a dire qualcosa di sbagliato a stare nel fallo ma Gesù è infinitamente superiore alla loro presunta furbizia umana davvero infinitamente non si fa a mettere in trappola da quattro sepolcri imbiancati da quattro sepolcri imbiancati e dice con nettezza a questa generazione non sarà dato alcun segno ci sentiamo un po' chiamati no in causa quanti ci dicono ah ma se dio è con voi farà prendere il 30 per cento io lo dico sempre agli amici che mi dicono adesso comunque ci penserà il signore ci penserà la provvidenza io un po' anche provocatoriamente dico guardate che il signore magari vota lupi eh non lo sappiamo non ci mettiamo a provocare a mettere ove dire a dare questo elemento di tentazione non è non è neanche giusto noi dobbiamo fare la nostra generazione ha adesso un obbligo è da noi che deve venire lo sforzo massimo la fatica massima poi certo noi invochiamo con grande umiltà la benevolenza anche solo la semplice protezione lo chiedo io per primo eh al allo sguardo benevolo di maria che interceta per noi ma non possiamo immaginare no che adesso il signore se mi metta a metta a fare le croci sulle schede il quattro marzo avrà di altro no non siamo una cosa fondamentale del mondo per noi però questo impegno è prova è testimonianza è dimostrazione che siamo generazione che sa muoversi e i segni non ha bisogno di vederli in questa maniera il segno è nella fede che ci è ispirata dallo spirito ci mette in condizione di fare questa battaglia il segno lo vediamo tutti i giorni quando gli attacchi diventano ferocissimi quando sembriamo stanchi e non ce la facciamo più e arriva il il la mano tesa di un amico a tirarti su pensate questi sono state ore davvero molto dure per me ve lo devo dire sono state dure ore pesantissime sono arrivato a a Imola già stanchissimo dopo aver fatto molti comizi in molte regioni in pochissime ore ero già stato ad Ancona a Perugia a Roma avevo rimbalzato per tutta Italia arrivo a Imola faccio questa iniziativa bellissima una marea di persone a Palazzo Marchi e mi arriva dalle forze dell'ordine questa segnalazione che c'era stata questa questa posizione lo striscione lo striscione di non solo di insulti quello abbastanza solido ma di minaccia di morte c'è proprio scritto ad Inolfi tu muori tu muori col punto esclamativo quando ti scrivono una cosa così e poi comincia a rimbalzare per i media via social voi dovete pensare che c'è una famiglia la prima a rimanerci molto preoccupata è stata la mia mamma no è che oggettivamente una mamma è sempre una mamma vede che a due metri dal punto dove io andavo a parlare mettono uno striscione intimidatorio con sopra scritto ad Inolfi tu muori col punto esclamativo e questo ovviamente preoccupa le persone che mi sono vicino preoccupa preoccupato Silvia la mia figlia grande ha visto tutto questo ti fanno delle domande io ovviamente tranquillizzo io non penso ci sia nessuno che verrà a uccidermi lo dico con franchezza penso sia la solita stupidaggine gogliardata però fatta a due metri dal luogo dove si fa il comizio sono intervenute le forze dell'ordine tempestivamente hanno tolto lo striscione ma poi le persone non le hanno individuate quindi un po di preoccupazione lo fa inoltre come ha scritto bene Filippo il mio carissimo amico vicepresidente dei giuristi per la vita avvocato Filippo Martini ha scritto che tutti i commenti sotto la pagina di Imola today dove hanno pubblicato quella quella fotografia dello striscione che minacciava erano pieni di altri che venivano a dire cose pesantissime sono passate pochissime ore devo dire e sono arrivati insieme l'ennesimo articolo insulto di una persona che evidentemente sta vivendo un momento di disagio anche psicologico pesantissimo un po' sparato a livello personale sparando in fronte dopo aver scritto un altro articolo andando a pescare cose scritte da me nel 2007 quando fondavo il Partito Democratico ed è noto a tutti che io fondavo il Partito Democratico 11 anni fa magari è noto a qualcuno che Massimo Gandalfini era un cristiano per il socialismo quando aveva l'età mia di 11 anni fa era un cristiano per il socialismo che votava a favore del divorzio era dunque scomunicato, l'ate sentenze perché i cristiani per il socialismo erano scomunicati in quanto comunisti votava a favore del divorzio e referendum del 1974 non dico mica cose tremende, era detto lui stesso nella sua autobiografia ma mai sognerei di fare un articolo intitolato Gandolfini a uno scomunicato mettendo le dichiarazioni di quando era un cristiano per il socialismo quando c'era il 68 da 68 quando faceva il pro divorzio nel 1974 ma non ha nessun senso ho una distinzione politica sì il comunicato di ieri il difendiamo i nostri figli che chiede di votare per la quarta gamba o per i quattro partiti del centro-destra lo trovo politicamente insensato ho motivato politicamente il dissenso spiegando che serve discontinuità nel voto ho scritto un articolo che dice bisogna avere discontinuità è un errore quello che fa il comitato di difendiamo i nostri figli dicendo che bisogna votare addirittura la quarta gamba che è Zeppa di traditori e femmini dei o la Lega con la capolista Giulia Buongiorno che vorrebbe tutti noi in galera lo dico politicamente non mi sognerei di scrivere un post dicendo però ricordatevi che Massimo Gandolfini era uno scomunicato che votava per il divorzio ed era uno di quelli responsabili dei sassi del 68 è un amico di Valeria Fedeli non mi verrebbe in mente quello che mi impressiona è che ciò che subisco sul piano personale cioè il livello di insulto e di cattiveria che arriva sul piano personale ha a che fare con una dimensione che è davvero preoccupante del conflitto che pure può esserci sulle scelte politiche che però dovrebbe lasciare da parte la dimensione dell'attacco alla persona così violento può esserci un po' di fisiologica per carità ruggine non mi meraviglia ma se diventa un'ossessione c'è una persona che scrive un articolo al giorno ripeto andando a cercare gli iscritti del 2007 quando io fondavo il PD ovviamente avrò scritto qualcosa di diverso da quello che sono oggi nel 2018 cinque anni dopo aver lasciato il Partito Democratico è ovvio quando lo fondavo ero diverso da quando me ne sono andato nel 2012 e da quando lo contrasto nel 2018 quindi fare questo gioco vorrebbe dire esattamente fare il gioco di dire che Andorfini era un cristiano per il socialismo cioè comunista sessantottino scomunicato pro divorzio che senso avrebbe? che senso avrebbe? ora noi dobbiamo secondo me a sgombrare il campo e il confronto dice bene la Pongiluppi l'attacco alla persona è sempre una mancanza agli argomenti facciamolo sugli argomenti il nostro argomento è continuare a votare per la stessa forza politica addirittura la quarta gamba le forze politiche di centro-destra dove Berlusconi è con i parlamentari che vanno al Gay Pride e il Gay Pride ce l'ha dentro casa ed è abbastanza evidente che dei nostri valori non gli interessa proprio niente la Lega propone la legalizzazione e la prostituzione in cinque circoscrizioni mette capo l'Ista la buongiorno che uno che vuole fare la legge Scalfarotto si richiamerà Buongiorno Scalfarotto e umilia il Comitato difendiamo i nostri figli mettendo al quarto posto come riempirista l'unico esponente del Comitato difendiamo i nostri figli che è candidato a queste elezioni uno ce n'è e l'hanno messa e l'hanno messa al quarto posto a fare il riempirista della lista capeggiata dalla buongiorno quindi condifendiamo i nostri figli che dovrà fare campagna elettorale per reggere la buongiorno roba da pazzi e io la discussione la faccio sul piano politico voglio votare i fratelli d'Italia e c'è Giorgia Meloni da 15 anni in Parlamento non ha mai fatto una proposta sulla famiglia sulla quarta gamba io neanche parlo perché insomma che vi devo dire se uno dice votate la quarta gamba è in stato confusionale ma la distinzione è sul piano politico noi diciamo secondo noi è sbagliato dare continuità a quel percorso quel percorso ha portato al disastro della diciassettesima legislatura agli undici voti appena su 240 eletti contro sul divorzio breve ai 37 voti contrari sulle disposizioni anticipate di trattamento cioè sul biodestamento al voto decisivo degli eletti del centrodestra a favore della legge Cirinna allora poiché c'è stato tutto questo la nostra analisi è che la continuità continuerebbe a generare questo perché è ovvio li rivoti li rimandi in Parlamento ti rifaranno la stessa cosa cioè faranno l'inciucione che scrivono tutti gli analisti politici l'esito del 4 marzo è l'inciuccio secondo il Rosatellum secondo come l'hanno immaginato a meno che non arriva un elemento di discontinuità questa è la nostra campagna elettorale sugli argomenti noi siamo l'elemento di discontinuità e possiamo esserlo se tutti ci uniamo io continuo a non rassegnarmi all'idea che andremo alle elezioni divisi noi andiamo alle elezioni uniti uniti con il popolo delle piazze del Femini Day che non seguirà quel popolo non seguirà le indicazioni di chi dice votate i traditori di quella piazza perché non le seguirà ci saranno sì dei gruppi dei singoli degli interessi dei microcomitati di sostegno di quelli che odiano la persona Maria Di Nolfi che potranno fare una scelta che è politicamente idiota ma il resto il popolo quello che era in piazza che ha portato le persone i figli a fare mille chilometri a prendersi la pioggia non li vota i nemici del Femini Day puoi fare tutti i documenti che vuoi ma non la vota Giulia Buongiorno non la vota la Lega che vuole questo e la legalizzazione della prostituzione non la vota la Quarta Gamba con Maurizio Lupi non lo fa l'unità del popolo del Femini Day sarà nel voto per la discontinuità al popolo della famiglia e noi lavoreremo chiedendo unità chiediamo unità un vescovo ieri ha scritto su Avvenire con chiarezza che servono novità e discontinuità si chiama vescovo Antonio Suetta non è un tradizionalista è un vescovo messo lì da Bergoglio che però ci ha conosciuto ha voluto firmare le nostre liste e ieri ha scritto su Avvenire ai cattolici ai fedeli della sua diocesi serve novità serve discontinuità alle elezioni facendo eco al famoso manifesto dei 200 sacerdoti religiosi e religiose che la stessa cosa hanno scritto e che continua a essere uno strumento provvidenziale sul piano personale poi è arrivata anche una mano tesa io ho scritto oggi cantando veramente canticchiato with a little help from my friends è una canzone di uno che era un po' più spettinato di me 50 anni fa la cantava un po' che mi somiglia pure si chiama Joe Cocker pace all'anima sua what would you do if I sang out of tune la cosa succede la riconoscete questo primo verso significa cosa farete se dovessi cantare fuori dal coro what would you do if I sang out of tune e questa persona dal palco allora di Woodstock canta dicendo io sarò fuori dal coro ma ce la potrò fare se avrò un piccolo aiuto dai miei amici with a little help from my friends with a little help from my friends è proprio ieri quando ero stanco non ce la facevo più con le minacce di morte le preoccupazioni di mamma la famiglia un po' incavolata perché stai facendo tutto questo non ci sei mai tua figlia non ti vede mai e vabbè tante cose che ti rendono faticoso fare questo lavoro ogni minuto del giorno sapendo che c'è un altro treno da prendere devi andare a Napoli domani devi andare essere a busto al stizio da Napoli che è un pochino lontano quando poi sei proprio stanco abbattuto sei per terra arrivano quelli che ti dicono guarda che tizio appena scritto un articolo infami nei tuoi confronti devastante e allora vai lì te leggi l'articolo da veleni e dici ma perché ho fatto tutto questo stavo tanto comodo ma stavo tanto comodo ero deputato uscente mi firmavo una bel pezzo di carta me ne dimenticavo dei processi per omofobia dicevo che avevano ragione loro viva i figli dati dai maschi o da due femmine stavo comodo a fare il deputato per la legislatura appena finita cioè incassandomi 750 mila euro e per quella dopo oppure mi vendevo adesso il simbolo del popolo della famiglia quello che vedeva alle mie spalle me lo vendevo come hanno fatto Stefano Parisi e Vittorio Sgarbi mi facevo dare come mi hanno offerto ci sono i testimoni Nicola Di Matteo ed altri il posto sicuro in Parlamento sgombravo il campo così gli adicicoli non si preoccupava dei voti che potevo prendere io e con questo pensavo comodo e prendevo altri 750 mila euro e invece what would you do if I sing out of tune cosa fate se canto fuori dal coro ho bisogno di quello che potete darmi voi cioè il piccolo sostegno dei miei amici little help from my friends e ieri quando ero proprio per terra e non ce la facevo più eccolo Filippo Martini che scrive mi vergogno per gli auguri di morte che ti ha fatto la mia città ti saluto e ti abbraccio comunque ti saluto e ti abbraccio io Filippo perché adesso sei la nostra avanguardia in quella città e quindi sarà dura anche per te quindi un abbraccio davvero ebbene mentre ero lì è arrivato questo messaggio una lettera addirittura di quando ero schiantato davvero ragazzi era notte fonda non ce la facevo più è arrivato padre Maurizio Botta sul blog di Costanza Miliano ed eccoci qua with a little help from my friends e padre Maurizio che è un sacerdote che mi conosce abbastanza bene diciamo non è che ha detto votate VDF però ha scritto una una lettera in cui ha voluto raccontare qualcosa sull'uomo Maria di Nolfi siccome quando fanno questo devo sempre preoccuparmi il fatto che un sacerdote poi della sensibilità di padre Maurizio l'abbia fatto e sul blog di Costanza che non è propriamente un luogo qualsiasi per il nostro mondo mi ha rinfraccato e quindi in piena notte avete visto ho ripreso energie e ho scritto quell'articolo che forse qualcuno leggerà che vi chiedo di farci circolare su PDF discontinuità nel voto proprio per le energie che mi sono state regalate dai miei amici dal blog di Costanza e dalla lettera di padre Maurizio quindi leggete quell'articolo che appunto PDF discontinuità nel voto che è la nostra risposta politica sul piano del perché bisogna votare il popolo della famiglia e è la nostra risposta ispirata anche dalla forza che mi è stata regalata da questi amici poi se volete fate leggere fate leggere fatelo circolare attraverso i vostri profili Facebook solo se volete questa è una cosa che poi alla fine per me è anche molto personale ma la lettera di padre Maurizio è davvero interessante ha un passaggio che io ho citato presentandola dicendo sì che io sono uno è noto che posso essere verbalmente molto aggressivo posso attaccare al muro come dice padre Maurizio nella lettera alcune persone perché sono convinto delle cose che dico con grande convinzione può accadere padre Maurizio dice però che preferisce questa mia vehemenza che in realtà lui qualche volta contrasta e contrasta molto ma la preferisce a quelli che sono fintamente mansueti e poi mentono deliberatamente magari dicono che non mi hanno mai conosciuto che sono stati lì a essere presentati a me dalla moglie che loro in realtà non sapevano che fossi poi in realtà stavano lì accanto a me a presentare il mio libro raccontano che noi abbiamo offerto tutto questo alla sua leadership lo raccontano esplicitamente l'hanno detto in un video quindi non lo facciamo per noi non l'abbiamo fatto per noi l'abbiamo fatto per il popolo e il femmini dei però poi utilizzando questa totalità un po' no? un po' da sagrestia un po' fintamente bonaria mentono sapendo di mentire e cercano di rappresentare un Maria di Norfi che non esiste non per danneggiare Maria di Norfi ma perché pensano che danneggiando Maria di Norfi uccidono il popolo della famiglia ma io l'ho detto a quelli che mi hanno scritto la minaccia di morte ad Inolfi tu muori ormai siamo in una fase in cui se io muoio se io dovessi morire se succedeva due anni fa fossi morto due anni fa non sarebbe accaduto tutto questo perché proprio sul piano tecnico organizzativo servire qualcuno che lo sapesse fare molto semplicemente che lo sapesse fare ma se oggi morissi poiché avete imparato tutti come si fa poiché avete una grande guida nel segretario nazionale Gianfranco Amato il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo avete tutti i leader locali ormai organizzati se io dovessi morire domani so per certo che il testimone sarebbe consegnato nelle mani di chi lo farebbe proseguire questo discorso e questo cammino quindi adesso posso morire tranquillo lo dico a quelli che hanno pubblicato lo striscione non augurandosi la morte ma predicendola tu muori punto esclamativo e anche a coloro che se morissi domani esulterebbero in cuor loro magari poi scrivendo un post di lacrime di cocrodillo sarebbe l'altro oltraggio finale diciamo a questo tipo di percorso comunque diciamo che non si muore perché questa è la cosa più importante anzi si va avanti si parte adesso alla grande farò un'intervista tra l'altro tra pochissimi minuti con la 7 di martedì il programma di Floris 30 secondi ecco ma al solito a noi ci tocca questo poi andrò a registrare altre interviste a Mediaset in questo momento alle 12 andrò a fare le interviste a Mediaset alle 13 e 15 prenderò il treno spero di arrivare in tempo alla pontificia a università teologica mi sono preso un'ora di margini speriamo non ci siano casini sulla linea ferroviaria in che entreranno i nostri amici napoletani mentre domani faremo una bellissima iniziativa alle 20.45 a Busto Arsizio con con il nostro segretario Gianfranco Amato con Massimiliano Amato sarà un bel momento una reunion a Busto Arsizio domani alle 21 sì mi pare che alle 21 non dimenticate che il 24 c'è l'assemblea nazionale 24 tutti pronti a venire a Roma al teatro Salomberto 24 di febbraio ricordatevi 24 di febbraio c'è la grande festa del popolo della famiglia a Roma mi raccomando a Roma 24 febbraio a Roma al teatro Salomberto quando potranno vedere in tv queste interviste adesso lo chiederò oggi faccio questa di martedì potrebbe andare in onda già domani potremo andare in onda su Mediaset nei prossimi giorni poi vi darò i calendari di tutte le apparizioni televisive che avremo ne avremo parecchie comunque almeno 10 o 12 le sto registrando e anche per questo sta saltando qualche data in giro per l'Italia mi scuso ma è più importante è molto più importante in questo momento andare alle tv per far sentire e vedere il popolo la famiglia in tutta Italia Faustino Cogliano mi chiede se è aperta a tutti certo l'assemblea del 24 febbraio ore 11.30 a Via della Mercedes Teatro San Umberto è aperta a tutti potete venire tutti da tutta Italia anzi vi aspetto per quella che è la grande festa del popolo della famiglia Franco dice l'idea che hai portato è più grande di te gli attacchi che ricevi sono gli attacchi a tutto il popolo della famiglia esattamente così Mauro Chialassi dice se la testugine è unita non muore nessuno tutti uniti come un popolo quello della famiglia allora voglio davvero ringraziare i tanti perché poi ci attaccano è vero ci attaccano ma non dimentichiamoci il vescovo Antonio Suetta ieri ha scritto su Avvenire sulla sua pagina diocesana domenicale quel comunicato che è un comunicato di sostanziale sostegno al popolo della famiglia che invoca come messaggio ai fedeli della sua diocesi novità e discontinuità nel voto al 4 marzo si ci attaccano ma c'è un appello di 200 sacerdoti religiosi e religiose che sostengono il popolo della famiglia esplicitamente mettendoci la faccia esponendosi loro stessi al rischio di attacco con quelli che mandano le mail firmate Costanza Adinolfi e le potrebbero mandare firmate Mario Miriano perché la finalità sarebbe la stessa si ci attaccano ma oggi proprio sul blog di Costanza Miriano c'è una frase una lettera una bellissima lettera di padre Maurizio Botta che ci dice qualcosa su ciò che siamo anche sul piano personale visto che gli attacchi sono stati sul piano personale la distinzione tra il popolo e la famiglia le altre opzioni in campo di chi dice di votare per responsabilità addirittura per Maurizio Lupi la quarta gamba la distinzione è nel documento che ho scritto ispirato nel momento in cui ero più stanco proprio dall'aiuto degli amici il documento che vi invito a far circolare che si chiama pdf la discontinuità nel voto che è il nostro documento politico di oggi da far conoscere a tutti per spiegare le ragioni del voto al popolo della famiglia nessun altro voto è utile quanto il voto al popolo della famiglia altrimenti vi beccate Berlusconi che già dice che vuole gentiloni ancora a Palazzo Ghigi o peggio i grillini che ormai candida i massoni e si scopre sui giornali o la povera Veloni che adesso è arrivata addirittura a minacciare il direttore di un museo così perché l'impazzimento è parte della politica o addirittura Salvini che dopo averci propinato la buongiorno e la legge sulla legalizzazione e la prostituzione si è inventato il gioco a premi in cui se fai tanti like ai suoi post rivinci la sua telefonata vuol dire veramente la politica è impazzita la nostra non è politica di nomi non è politica di persone non la metteremo mai sul personale la dialettica di natura politica sulle opzioni in campo il futuro è di chi saprà battersi per le idee più forti quelle che saranno le idee migliori noi crediamo che ovviamente l'idea migliore sia votare il 4 marzo popolo della famiglia perché solamente il popolo della famiglia crea le condizioni della discontinuità altrimenti l'abbonino ve la beccherete premier perché l'abbonino nel collegio dove la sfido io è stata candidata anche del centrodestra è stata mandata da Silvio Berlusconi a fare il commissario europeo in nome e per conto del governo di centrodestra ricordatevi quelli sono intercambiabili l'abbonino si può candidare una volta col centrodestra e una volta col centrosinistra tanto poi governano insieme quindi quello che conta in questo momento è solo dare un segnale di discontinuità e la discontinuità si ottiene solamente se si vota popolo e la famiglia e si impedisce il linciucio che secondo tutti gli analisti è già scritto tra centrodestra e centrosinistra dopo il 4 marzo volete mandare il centrodestra all'opposizione potete solo votare popolo della famiglia chi vota centrodestra vota per la continuità con l'esistente con ciò che è stato purtroppo il primo voto che è stato dato nel 2013 a una legge dopo le larghe intese col governo Letta Forza Italia PD è stata per la legge Scalfarotto quello che ci mandava in galera e avrebbe chiuso completamente la storia del movimento pro-life e pro-femini se dovesse vincere la coalizione centrodestra andare all'accordo col centrosinistra la prima legge del 2018 sarà la buongiorno Scalfarotto insieme decideranno di mandarci in galera e hanno già detto con chiarezza che sono pronti allo scambio autonomia omofobia dunque noi siamo l'unica possibilità per dare un elemento di rottura e dunque proseguire in una strada di discontinuità l'unico voto possibile che cambia le sorti della prossima legislatura è la discontinuità nella continuità avrete continuità con ciò che è accaduto nella legislatura precedente è molto semplice l'analisi è chiara lo voglio dire anche a Filippo Savarese che è arrivato in diretta che abbraccio sul piano personale la loro analisi politica è sbagliata votare per la quarta gamba votare per la Lega votare per Berlusconi addirittura uno che manda i parlamentari al gay pride e il gay pride ce l'ha dentro casa è politicamente sbagliato poi possiamo tenere un atteggiamento sul piano personale di correttezza e evitare di leggere quelle oscenità che sono purtroppo ormai da leggere tutti i giorni con articoli ignobili e davvero violenti rivolti al sottoscritto per il passato per quello che ha detto nel 2007 11 anni fa lo ripeto noi non ci metteremo mai sul piano di chi dice Gandolfini era un cristiano per il socialismo era uno che votava per il divorzio uno che ha fatto il 68 con Valeria Fedeli uno che era scomunicato la desentenza perché era un cristiano che voleva il comunismo non lo diremmo perché è totalmente insensato metterlo su quel piano ognuno ha un passato oggi giudichiamo ciò che siamo oggi ciò che siamo oggi le battaglie che facciamo oggi ero con Monti ero con Monti come tutti i deputati cento testa e cento sinistra che in Parlamento hanno votato insieme sempre per i provvedimenti del governo Monti sempre tutti insieme d'accordo anche quelli che oggi vi dicono vogliono cancellare la Fornero hanno votato la Fornero hanno votato per i provvedimenti con un po' più di responsabilità rispetto al sottoscritto dopo questo c'è stata una frase del prima e poi una decisione di non ricandidarmi cioè pagare prezzo mentre ripeto l'altra sera ho pensato ma mettevo una bella firma mi ricandidavo a deputato del Partito Democratico stavo tanto tranquillo mi guadagnavo i miei 750.000 euro senza fare niente ogni tanto andavo pure in televisione quindi c'avevo pure la gloria e non mi dovevo affrontare questa cosa devastante devastante che è la campagna elettorale del mondo cattolico col veleno da sacrestia ecco devo ammetterlo l'ho pensato ieri sera l'ho pensato me lo potevo veramente risparmiare potevo restare comodo dove stavo fare il deputato per una legislatura in più e oggi essere ricandidato e magari avevo pure fatto il ministro o qualcosa del genere potevo farlo invece ho voluto dire la verità perché ho pensato che a quel punto avevo poco più di 40 anni e potevo solo in quel momento decidere la strada della mia vita e potevo essere o uno pagato a gettone o una persona libera sono una persona libera sono magari uno come dice padre Maurizio Botta che attacca al muro l'interlocutore con vehemenza aggressiva quando crede che qualcosa sia giusto a parole con le mani ancora non l'ho fatto c'è uno che mi ha minacciato sempre lo stesso che mi viene a prendere a schiaffi poi con un dito solo lo farei diventare carta da parati però se mi dà un schiaffo me lo prendo non userò neanche il dito con cui lo farei diventare carta da parati e i miei difetti dunque ce li ho ce li ho tutti sul piano personale sono indubitabilmente evidenti nell'aggressività ma sono convinto che sia stato uno strumento anche questo della battaglia da compiere forse con un po' di aggressività siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto altrimenti non ci sarebbe stata tutta questa storia c'è voluta aggressività ci sono volute un po' di palle lo posso dire? lo posso dire va? un po' di palle per affrontare tutto questo ci sono volute però ieri notte ho pensato guardate ma chi cacchio me l'ha fatto fare ma chi cacchio me l'ha fatto fare le minacce di morte mia madre è preoccupata le situazioni dentro casa quelli che ti dicono ogni nefandezza possibile andando a prendere le cose scritte undici anni fa che poi non c'è niente scritto straordinario peraltro non è che bestemmiavo diciamo e però poi è arrivata quella bella lettera di padre Maurizio sul blog di Costanza ha detto dai forza Maria un altro tratto di strada da fare insieme un altro tratto di strada da fare insieme sono diciannove giorni teniamo duro non ci facciamo abbattere la finalità di quegli attacchi è abbattere abbattere me e fiaccare la vostra determinazione e allora facciamo quello che dice Mauro Chialastri combattiamo per la verità perché questa è libertà dal vecchio sistema e allora facciamo tutti insieme questo sforzo faticosamente perché come ho detto sempre e come ho pure persino cantato oggi what would you do if I sing out of tune che facciamo? se uno e uno si mette a suonare e a cantare fuori dal coro ci diamo una mano with a little help from my friends questa è la risposta che ci diamo tutti insieme a testuggine eppure cantando ce la diamo a testuggine perché uniti in battaglia perché in battaglia siamo ma sentiranno da sotto gli scudi partire questa canzoncina what would you do if I sing out of tune? cosa farai se canto fuori dal coro eh? non grideranno le pietre caro Massimo Cucciolotti canteranno le pietre con allegria e col sorriso e da spettinati perché questa canzone 50 anni fa la cantavo uno spettinato più spettinato di me with a little help from my friends uniti insieme ognuno con i propri amici a dare una mano arriviamo fino in fondo ce la facciamo cambiamo completamente la storia di questo paese perché qui o capiamo o moriamo lo sappiamo bene lo abbiamo detto da tanto tempo ora è il momento di far vedere che siamo conseguenti alle cose proclamate e con coraggio affronteremo ogni difficoltà non ci faremo fiaccare non ci faremo stancare agli insulti risponderemo col sorriso e la letizia continuando a cantare fuori dal coro appuntamento a Napoli per chi vuole oggi alle 15.30 la pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale sezione Tommaso d'Aguino sono tentato di portare questa famosa mela metterla sul tavolo e dire chi non è d'accordo col fatto che questa sia una mela esca da quest'aula perché la verità esiste lo andremo a testimoniare onorati di essere chiamati dai padri gesuiti alla pontificia facoltà teologica sono davvero onorato ed è con questa energia derivante anche da questo riconoscimento che ricordate un riconoscimento ad ognuno di voi non è stato invitato Maria Di Nolfi giornalista se andate a vedere la locandina c'è scritto Maria Di Nolfi giornalista relazione di apertura al convegno dei docenti della facoltà della pontificia facoltà teologica in qualità di fondatore del popolo della famiglia ricordatevi oggi questo invito che arriva a me è arrivato in realtà a ciascuno di voi riconoscono che abbiamo qualcosa da dire e forse persino da insegnare ai docenti di una pontificia facoltà teologica di questo paese davvero Sant'Omaso ci protegga come dice Orazio Filippelli da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti voi e sì ti risponderò sempre cara Silvia Lodà che non sono grande sono solo grosso e forse sta cosa è diventata pure un fastidio per molti perché poi quando alzo la voce o come dice padre Maurizio attacco qualcuno al muro la cosa diventa un po' fragorosa però così sono e così vi dovete tenere sto povera Di Nolfi spettinato e grosso e qualche volta per la verità capace anche di attaccare al muro l'interlocutore vigliacco grazie davvero a tutti voi per chi vuole a Napoli ci vediamo oggi e domani a Busto Arstizio ci sono un po' di chilometri da fare ma li faremo con Letizia cantando insieme questa bellissima prima parte di canzone questa prima parte che possiamo davvero cantare insieme what will you do if I sing out of tune cosa farai se canterò fuori dal coro chiedete ai vostri amici a tutti i vostri amici che siano lì a darvi una mano with a little help from my friends con un po' d'aiuto un piccolo aiuto dai nostri amici arriveremo dappertutto grazie padre Maurizio Botta grazie a Costanza Emiliano che ha ospitato questo suo scritto grazie a tutti voi per l'aiuto che mi state dando e che state dando al progetto politico del popolo della famiglia null'altro null'altro potrà essere importante per l'Italia quanto il voto al popolo che voi rappresentate al popolo della famiglia la maglia di notte una buona giornata a tutti fate circolare questa diretta un mi piace per favore un condividi sulla vostra pagina invitate i vostri amici a guardarla ci sono delle risposte importanti sul perché stiamo facendo tutto ciò che stiamo facendo insieme di nuovo buona giornata a tutti grazie 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 grazie